Quattro giorni fa la rapina all'interno di una villetta a Contrada Santa Clementina al ridosso dello storico Ponte Lepruso a Benevento. Momenti di autentica concitazione quando i banditi hanno capito di essere stati scoperti. Ad accorrere, dopo l'allarme lanciato da alcuni ragazzini, infatti numerosi residenti del quartiere che in quei minuti erano all'interno dei giardini, per una riunione del comitato di quartiere Santa Clementina. Tra loro anche un carabiniere fuori servizio che ha provato a bloccare uno dei banditi ma è rimasto ferito. All'improvviso ci siamo ritrovati, ci siamo imbattuti per quattro malviventi che erano entrati in casa nell'abitazione di queste persone e mentre in strada c'era una quinta persona che li attendeva a bordo dell'autovettura che era dotata anche di una sirena in uso alle forze di polizia. Lei è ovviamente anche un militare, vedendo delle persone in pericolo è intervenuto immediatamente e ha cercato di bloccare uno dei malviventi ma i malviventi peraltro armati. Mi sono imbattuto in uno di questi che era armato e purtroppo ha avuto la meglio e mi ha sferrato un colpo nella zona frontale sinistra. I residenti sono ora all'erte, pronti a segnalare qualsiasi automovimento sospetto alle forze dell'ordine ma chiedono anche più sorveglianza e magari anche con l'aiuto della tecnologia. Vorrei segnalare che lo svincolo della tangenziale è l'unico barco della città che non è videosorvegliato. Questa è una pecca per la città di Benevento.